in quel tempo uno dei commensali avendo dito questo disse a gesù beato chi prenderà cibo nel regno di dio gli rispose un uomo diede una grande cena e fece molti inviti all'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati venite pronto ma tutti uno dopo l'altro cominciarono a scusarsi il primo gli disse ho comprato un campo e devo andare a vederlo ti prego di scusarmi un altro disse ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli ti prego di scusarmi un altro disse mi sono appena sposato e perciò non posso venire al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone allora il padrone di casa ad irato disse al servo esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri gli storpi i ciechi gli zoppi il servo disse signore è stato fatto come è ordinato ma c'è ancora posto il padrone allora disse al servo esci per le strade lungo le siepi e costringile ad entrare perché la mia casa si riempia perché io vi dico nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena a dio non garba l'ingratitudine fatica a contemplarla è come preso da un moto di ira quando si presenta la sua porta almeno dal vangelo cogliamo un po questo senza poi tirare in ballo il brano parallelo di matteo quando di fronte alla restituzione al mettente dell'invito a nozze il re si indignò al punto di mandare le sue truppe li fece uccidere diede alle fiamme la loro città qui diventa addirittura vendicativo e spietato eppure dio dovrebbe conoscere il cuore dell'uomo sa che è intasato da metastasi di ingratitudine sa che ogni figlio ingrato verso i padri ed è un destino comune fra gli uomini proprio motivo di ciò si è creato il detto non fare il bene se non sai sopportare l'ingratitudine perché se ci aspettassimo necessariamente la gratitudine nessuno più farebbe il bene ma forse che dio non sa tutte queste cose perché allora nella parabola il re così sdegnato e adirato dobbiamo dire anzitutto che questa parabola tratta gli ultimi tempi il re è dio il banchetto è il paradiso e gli invitati sono gli uomini diciamo che l'invito qui diventa decisivo e l'ingratitudine purtroppo assume proporzioni infinite e drammatiche il non presentarsi alla festa è praticamente un suicidio eterno di questo soffre dio dio ha pensato la storia in vista di quel giorno di quell'ultimo giorno del giorno senza tramonto dio ha dispiegato l'universo sui binari dello spazio e del tempo per portare l'umanità definitivamente con sé la storia un lungo tappeto disteso verso la stanza del re verso quel banchetto a cui tutti noi siamo invitati quanta stoltezza quindi nella nostra ingratitudine una vera volontà di autodistruzione che sgomenta il nostro stesso creatore i ricchi dal cuore ingrato allora vengono sostituiti dai poveri ricchi di gratitudine grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti